Laura Castelli, la nostra eletta 5 stelle, che si occupa di bilancio, si occupa di pubblica amministrazione, di restituzione dei denari alle piccole e medie imprese, quindi un argomento assolutamente molto importante. Ciao Laura, buongiorno e benvenuta sulla Cosa. Ciao, oggi abbiamo voluto chiedervi questa diretta per raccontarvi che cosa è successo ieri e che cosa succederà questo pomeriggio. Noi ieri, come avete letto dai giornali, abbiamo chiuso il decreto sui debiti della pubblica amministrazione e a conclusione del disegno abbiamo presentato degli ordini del giorno in cui chiedevamo degli impegni al governo. Uno di questi impegni è quello di impegnare il governo a pagare tutti i crediti che la pubblica amministrazione ha nei confronti della pubblica amministrazione stessa. Per cui, che cos'è successo? Il governo ci ha dato parere favorevole e ci ha detto che è intenzionato a trovare modi per poter pagare tutti questi debiti. Quindi noi, ben contenti, abbiamo preso l'ordine del giorno che è stato approvato e adesso faremo una conferenza stampa dove spiegheremo intanto perché oggi a chiusura del decreto ci siamo astenuti come votazione e noi ci siamo astenuti dalla votazione del decreto 40 miliardi perché crediamo che pur essendo giustissimo cominciare a pagarne una parte, questa non basta e bisogna migliorarne i meccanismi, i criteri, bisogna fare altro lavoro. Per cui attraverso quest'ordine del giorno il governo non ci può più scappare perché ci ha promesso che anche lui si vuole impegnare per pagarli tutti e stiamo parlando di circa 120 miliardi, quelli stimati ovviamente. Per cui in questa conferenza stampa diremo che stiamo lavorando con le piccole e medie imprese e con le organizzazioni che ci ruotano intorno, le associazioni, quelle come Confapri per esempio, che avete letto anche sul nostro blog e costruiremo un progetto di legge che possa davvero far sì che vengano pagati tutti, anche perché non ci dimentichiamo che in Unione Europea è uscito… sentite? Allora, in Unione Europea e poi si è interrotto, Laura. In Unione Europea, in Parlamento Europeo era stata varata una legge per cui tutti i crediti dovevano essere pagati entro 30 giorni e entro 60 giorni per i casi limite della pubblica amministrazione. Noi ovviamente l'abbiamo recepita, ma come Italia, come al solito, siamo indietro, non riusciamo a rispettare questa cosa. Quindi bisogna lavorare intanto per eliminare, cioè pagare quelli vecchi ed essere in linea con quelli nuovi. Per cui in questo momento noi faremo questa conferenza stampa dicendo presenteremo il testo e chiederemo al governo di fare ciò che si è impegnato a fare ieri, ossia portare avanti questo testo di legge e finalmente pagare tutti i debiti che lo Stato ha rispetto alla pubblica amministrazione. Laura, a pelle, come ti sembra questa apertura del governo, insomma questa approvazione del fatto quanto meno che vi stiano a sentire? C'è dietro qualcosa o si sono resi conto che comunque quella è una strada che per forza bisogna percorrere perché la situazione davvero nel nostro paese è così grave che non si può più perdere tempo e non si può lasciare nessuno indietro. Guarda, quello che è venuto fuori dal lungo dibattito di queste ultime tre settimane su questo decreto è che intanto un sacco di aziende hanno chiuso e sono fallite anche causa il non pagamento di questi crediti e di questo ne siamo certi, cioè ci sono dati molto forti, molto reali, per cui non ci possiamo permettere di continuare a far morire aziende e soprattutto farle morire perché lo Stato non le paga, è una cosa assurda. E poi quello che non funziona è il sistema contabile ancora una volta, quindi noi ci siamo battuti per far capire a tutti quanti che oggi il paese Italia sta andando a rotoli anche perché ha un sistema contabile sbagliato, che se ci pensi è fuori dal mondo che un paese fallisca perché non riesce a tenere la contabilità e a fare il buon ragioniere. Siamo pazzi, questo è quello che sta succedendo, la loro apertura c'è perché sicuramente ci scontreremo sui modi, perché noi puntiamo sulla compensazione dei crediti fiscali di cui poi magari vi parliamo più approfonditamente un'altra volta, oppure sul rendere pubblica la cassa depositi e prestiti, metodi nuovi e che hanno un'evidenza molto rilevante. E quindi l'apertura è un atto dovuto in qualche modo e noi non possiamo fare altro che utilizzarla in questo momento. Senti, Francesco Mascarella ti fa una domanda dalla chat, Laura, è un po' generica però credo che sia interesse di tutti capire almeno la strada che i nostri parlamentari 5 Stelle stanno cercando di iniziare a percorrere. A chi andranno questi soldi? Io aspetto da 1800 giorni, c'è una cifra senza senso. Sì, allora, questi 40 miliardi che abbiamo appena varato in realtà sono 20 per un anno e 20 per l'altro, per cui si sono trovate delle coperture pazze, per esempio noi ieri abbiamo fatto una battaglia fortissima perché nei tagli lineari che saranno fatti sui ministeri noi nell'eventamento chiedevamo ovviamente di non tagliare università, ricerca e istruzione intanto. E in maniera univoca PD e PDL ha voluto inserire come fondo da non toccare quello relativo all'Expo che voi tutti conoscete. Esatto. Noi ci siamo arrabbiati davvero molto, anche perché Expo in questo momento vuol dire indagini, vuol dire inchieste, vuol dire odore di andrangheta e vuol dire tanto altro, oltre che lo sviluppo di cui loro parlano. Beh ma la mafia a Milano non esiste, volevo raccontarti che non esiste la criminalità organizzata, la movimentazione terra in mano tutti alle suore benedettine. Esatto, non esiste. In ogni caso questi soldi, una parte sarà liquidità che si permette alle regioni di utilizzare dal loro bilancio, diciamo quelli fermi dai famosi patti di stabilità, perché molte regioni, molti enti hanno dei fondi che non possono usare perché sono bloccati dal fatto di stabilità, che è un criterio con cui noi, l'Europa cerca di calmierare la spesa pubblica, in qualche modo. E poi un'altra parte sarà debito nuovo, debito che incide sul debito pubblico e qui ovviamente si apre tutta la discussione su, ma siamo sicuri che i conti che il governo sta facendo siano corretti su il famoso 3% di rapporto debito pubblico PIL? Qui quello che abbiamo scoperto è che le stime sono sempre sbagliate, che partono da dati non corretti e che generano quindi altri dati sbagliati, per cui questa è una missione di colpa che anche loro stessi fanno, però come dire, per loro è il motivo, è lo scamotage per fare le cose. Quello che noi ci auguriamo è che tutti i debiti che verranno pagati, verranno pagati un po' con ovviamente denaro, un po' con altri sistemi tipo la compensazione che oggi dovrebbe essere maggiormente spinta, per cui si allevia l'azienda, le imprese. Tecnicamente come funziona la compensazione? Cioè se io ti devo, a te stato devo dei soldi come azienda, ma tu me ne devi a me, andiamo a fare il conto, la differenza, questa è la compensazione? Una compensazione si può fare sì, fiscalmente, quindi se tu mi devi delle tasse per esempio, allora se tu mi devi delle tasse, io ti devo pagare una fattura, magari la compensiamo, no? Certo. Per cui tu non devi tirar fuori altro denaro. E poi ci sono diverse forme di compensazione, quelle che per esempio possono essere veicolate attraverso il lavoro, perché anche i tuoi dipendenti dovranno pagare delle fiscalità allo Stato, allora se io non riesco a pagarti, io Stato, magari allora il tuo dipendente può entrare nella compensazione sotto forma della sua fiscalità. Per cui c'è tutto un mondo che si apre, che loro fanno fatica non a capire, ma ad accettare, perché sono sistemi usati in tutta Europa, usati veramente in tanti paesi e che vogliono dire però cambiare, migliorare e davvero sviluppare strumenti nuovi e noi ci proveremo. Laura, Francesco Mascarella, che è un nostro interattore con cui abbiamo fatto un hangout la settimana scorsa, molto interessante, tra l'altro io vorrei girarvi il vostro, il contatto di Francesco, perché è un imprenditore che lavora con la pubblica amministrazione e con la sanità e lui dice, molti ospedali non hanno i bilanci certificati, per cui non si possono neanche compensare in crediti con le imposte, perché è proprio un disastro. Ti dirò di più, anzi, su questo penso che ci lavoreremo molto in commissione bilancio e poi ti dico la verità, è uno dei temi che preferirei migliorare molto in fretta. Sulla sanità c'è un buco nero pazzesco, non solo perché i soldi a un certo punto non si capisce dove finiscano, ma anche perché per una questione contabile davvero ci sono due bilanci che sono quello delle regioni e quelle delle ASL che parlano lingue diverse, per cui a un certo punto certificare davvero questi crediti diventa impossibile, quindi chi oggi fa un impianto a un reparto di una ASL ha dei seri problemi, perché l'ASL non parla la stessa lingua contabile che parla la regione, che riceve i soldi dallo Stato, quindi c'è un grossissimo lavoro da fare sulle questioni contabili, che non è per nulla banale se pensate che ogni regione del proprio bilancio pubblico occupa l'80% per la sanità, per cui sicuramente chi lavora per la sanità oggi è maltrattato dal punto di vista del diritto al pagamento. Laura esuliamo pochissimo da questa cosa, poi vi lascio perché avrai una giornata immagino molto importante, però siccome si parla sempre di bilancio c'è un problema che viene spessissimo citato qui in chat, ovvero della famosa IVA di cassa. Gloria ci dice per esempio qui in UK le fatture si emettono a fronte del pagamento, perché c'è sempre il problema di emettere fattura nei confronti della pubblica amministrazione ma anche tra privati e poi aspettare sei, otto mesi, dieci mesi che venga pagata questa fattura e nel frattempo non solo si ha la beffa di non aver incassato il proprio credito ma ci si paga anche l'IVA, cioè si versa allo Stato una somma che in realtà non è stata percepita. Ci sarà la possibilità di discutere, di portare questa discussione? Sì, guarda, questo è uno dei punti insieme a quello che vi raccontavo prima, che saranno i nostri diciamo i primi quattro punti sull'impatto con le piccole e medie imprese, quindi noi oggi sappiamo che c'è già una legge che permette alle aziende che hanno un fatturato sotto i 2 milioni di euro di utilizzare un'IVA per cassa, questo significa che tu azienda che fatturi meno di 2 milioni di euro all'anno puoi decidere di usufruire di questo sistema contabile nuovo IVA per cassa, tenerlo per almeno tre anni e pagare l'IVA solo a pagamento della fattura, a saldo della fattura. Quello che noi faremo è creare un testo di legge e sarà, spero, il secondo che faremo e di farlo entro breve, che dà la possibilità di alzare il limite di fatturato annuo, quindi oltre a quelle che hanno 2 milioni di euro di fatturato sarà permesso in maniera graduale ad arrivare alla totale copertura delle aziende che coprono il tessuto italiano. Noi vorremmo farlo perché, a parte essere importantissimo, ma in questo momento partire dalle piccole e medie imprese vuol dire davvero cambiargli la possibilità di sopravvivere o no, cioè decidere della propria sopravvivenza. Oltretutto questo nuovo metodo non è stato molto pubblicizzato perché tante aziende piccole non lo sanno, non sanno che la famosa IVA per cassa che uno sbraita alle manifestazioni a favore delle piccole e medie imprese in realtà è già stata approvata in piccola parte, quindi questa sarà un'altra delle nostre grandi battaglie. Il testo tra l'altro è molto semplice, quindi speriamo in un paio di settimane di poterlo concludere e poi lo spingeremo anche questo. Volevo solo aggiungere che tutte queste cose sono possibili perché noi, oltre alla nostra competenza personale, stiamo utilizzando la rete delle piccole e medie imprese e lo facciamo quotidianamente. Sul territorio lavorano con noi e riusciamo ad avere un'interazione veramente molto forte, cioè scriviamo gli ordini del giorno insieme e lavoriamo molto con loro, ci sentiamo spesso, quindi penso che sia importante. Laura, sarà possibile, mi chiedono, attivare un indirizzo email, una casella di posta dove possono scrivere direttamente a voi come commissione bilancio per fare delle proposte, per darvi dei suggerimenti, magari c'è già e non lo sappiamo ancora? Sì, allora stiamo concludendo la creazione di queste mail, ti dico molti di noi, oltre alla pagina che sarà creata sul blog, perché ci sarà data una pagina per ogni commissione dove vi aggiorneremo, alcuni di noi stanno preparando anche delle pagine Facebook proprio sulle commissioni, quindi è tema di questi giorni, ci stiamo organizzando. Comunque a brevissimo ci sarà una mail per ogni commissione dove ci potrete chiedere, aggiornare, mettere in luce alcuni argomenti, insomma interagire. E viva Laura Castelli, e viva i deputati eletti 5 Stelle, e ditemi a voi tutti che ci state seguendo se è mai esistita nella storia della Repubblica la possibilità di parlare con i propri eletti, portavoce, strumento, dentro le istituzioni che con questa chiarezza e competenza alla faccia dei cittadini inesperti stanno raccontando che cosa succede nei palazzi del potere, stanno trasformando i muri del palazzo di Montecitorio in vetrate, perché diventano trasparenti. Grazie ragazzi del vostro impegno, del vostro lavoro. A che ora sarà questa conferenza stampa? Non so se la potremo seguire in streaming, non credo che ci sia lo streaming, non lo so. Non lo so, devo chiedere qua ai ragazzi, in ogni caso vi aggiorniamo e in ogni caso sarà fatto il video, quindi la potrete vedere. In ogni caso Laura Castelli, grazie mille per la tua competenza, qualcuno fa anche i complimenti ai tuoi occhi, so che ci sta anche che qualcuno sia appassionato di estetica. Grazie alla dottoressa Laura Castelli, eletta Cinque Stelle, nostra deputata e viva le donne Cinque Stelle, ma viva anche gli uomini Cinque Stelle e viva tutti i nostri eletti. A presto. Ciao Laura, grazie mille, buon lavoro, buon lavoro per noi tutti.